Allora, è la seconda edizione del premio L'Isola Solidale che è destinata al reinserimento sociale dei detenuti attraverso un'analisi e valutazione delle loro attività all'interno del carcere. Personalmente è la prima volta che partecipo a questa iniziativa che trovo tra l'altro molto interessante ma ancora di più molto importante. L'idea di dover premiare dei detenuti attraverso le competenze e le capacità acquisite in un percorso di privazione della libertà è un aspetto fondamentale atto a stimolare e ad aiutare i detenuti in un percorso dell'inserimento sociale. Questo è fondamentale perché non solo rispecchia l'articolo 27 della Costituzione ma anche alcuni articoli, il 1 e il 13, dell'ordinamento penitenziario che sono indirizzati appunto a un percorso di riabilitazione e reinserimento del detenuto all'interno della società.